Abbiamo terminato questo anno 2022-2023, riprenderemo l'anno scolastico. Sono previsti altri corsi di architettura sarda, con ingegnere. Sono previsti anche altri due corsi con sociologia e materie simili, analoghe. Ancora il terzo corso non si è determinato perché l'insegnante deve vedere un po' la situazione anche della scuola del popolo. E in più abbiamo la possibilità di fare due corsi presso il liceo artistico, che fa parte appunto di questo istituto classico e dell'artistico, di scultura e di ceramica. Con la partecipazione dei ragazzi della scuola. Questo è più o meno il progetto. Poi abbiamo anche altre opzioni che però sono riferite all'anno prossimo, 2024, quando faremo il secondo simposio nazionale di scultura nella zona di Uras e nei paesi adiacenti. E' appunto un progetto che tende a valorizzare le risorse locali, infatti sarà su basalto, e a stimolare appunto le attività anche turistiche e quant'altro di quel territorio.